www.maritropoli.it operativo il bando FaiCredito 2023 a partire dall'11 di luglio si può inserire la domanda online per le micro piccole imprese che sono iscritte nell'albo camerale per Brescia e Pavia, questo prevede un abbattimento del tasso a fondo perduto, abbiamo stipulato dei mutui con gli istituti di credito o con Fidi per un importo non inferiore a 10.000 euro, massimo per l'operazione 150.000 euro e l'importo del tasso massimo applicato è del 9.000 euro, è previsto altresì un abbattimento dei costi per la garanzia con Fidi dal 50% fino al massimo di 1.000 euro, è una cosa interessante perché soprattutto in questo periodo in cui i tassi sono così in fermento, vi riporto qui in calce il bando e la documentazione necessaria per presentarlo. Alla prossima!